Vediamo il significato geometrico della derivata. Nella figura rappresentava il grafo di una funzione. In questo caso abbiamo scelto f di x uguale a meno x di 4 più 4x, cioè una parabola con località rivolta verso il basso. E' insegnata una lettera rappeggiata a questa rossa. Passa anche per due punti. Quindi punto x con 0 e f di x con 0 è l'altro punto di coordinate x con 0 più h di f di x con 0 più h. Si definisce il rapporto incrementale il rapporto tra delta y e delta x, cioè tra l'incremento della variabile dipendente e quella variabile dipendente. E' la tangente dell'angolo fi. Se vogliamo fare la derivata, direttamente abbiamo tf1 di x uguale a meno 2x più 4. Adesso vogliamo vedere il significato geometrico della derivata. Per fare questo, intanto vediamo cosa accade al rapporto incrementale aumentando l'incremento. la retta 70 è l'equazione y uguale a 1 litro 41x, in questo caso più 1 litro 41, cioè il confettacolare dell'angolo formato nella retta secante con l'asse positivo del x. Continuiamo a vedere l'animazione e intanto proviamo a vedere la derivata. La derivata definiamo come il limite del rapporto incrementale per l'asta che tende a 0, ha questo significato. Guardiamo la retta rossa, man mano che delta x diminuisce, cioè che h diminuisce, va a coincidere con la retta tangente. Quindi la derivata f di x, punto 0, x con 0, coincide con il confettacolare della retta tangente nel punto A. L'angolo formato è la retta tangente alfa. Quindi se guardiamo attentamente la retta tangente, è l'equazione 2,45x più 0,6, cioè il confettacolare è uguale a 2,45. Se noi spostiamo x con 0, la derivata cambierà, perché stiamo cambiando la derivata nel punto. Allora, guardiamo la retta tangente alfa.